Ecco Petra Roia, se per i molisani la fusione con un'altra realtà significasse una serie di risparmi in termini di tasse, di innalzamento della qualità dei servizi, sono certo che lei non esiterebbe un solo momento a sottoscriverla. Il problema però è come ha sottolineato anche lo stesso Presidente Frattura, proprio nel corso dell'intervento fatto all'inaugurazione dell'anno accademico, se vogliamo il dubbio che potrebbe non essere così, perdere i presidi dello Stato rischia di allontanarci ancora di più dal centro e questo certamente lo si dice non perché ci siano posizioni di rendita da tutelare, mi immagino questo sia anche il suo pensiero. Sì, intanto io credo che noi dobbiamo recuperare una visione progettuale anche di carattere costruttiva, positiva, noi ci dobbiamo presentare a Roma non con l'idea di chi difende l'indifendibile, noi dobbiamo cercare invece di avere un'idea dove si dimostra che sostanzialmente se al primo posto noi collochiamo il cittadino, allora a Costituzione invariata i cittadini italiani hanno l'articolo 3 che deve assicurare e garantire lo Stato con le sue articolazioni una serie di diritti che sono livelli essenziali di prestazioni e sono i diritti universali di cittadinanza. Dopodiché noi non dobbiamo essere chiusi e arroccati rispetto a un ridisegno, una riarticolazione dello Stato, perché a me quello che interessa è che un cittadino che abita in Molise possa avere scuole, trasporti, università, giustizia, sanità, poi qual è l'articolazione dello Stato che offre a quel cittadino la garanzia del diritto? Può essere il comune, può essere l'ente di area vasta, può essere la regione più o meno grande o direttamente lo Stato. Quello che noi non possiamo accettare, perciò io mi appello anche ai tanti che in Molise sono abituati a parlare semplicemente per partito preso e fanno qualunquismo dove o c'è rassegnazione o c'è la protesta, ma manca il progetto. Questi ci indeboliscono, noi dobbiamo provare ad affrontare invece questa fase che è molto difficile cercando di dire ma scusate, la macro regione, se fossero esistite le province e magari nel Molise se faceva una provincia sola che c'era 200 anni di storia, perché il vero ente locale sovracomunale del Molise dal 1806 è sempre stato solo la provincia di Campobato. Ha avuto dei confini diversi, questo è. Allora tu ti puoi mettere in una macro area e deleghi alle province una serie di attribuzioni e di funzioni ma se le province ormai nel disegno costituzionale sono state soppresse noi andiamo incontro a una fase in cui se saltano le regioni per come oggi sono articolate ci sarà il comune con meno potere, nessun ente sovracomunale e delle macro aggregazioni con i presidi dello Stato che nel frattempo se ne sono andati e qui noi dobbiamo fare una battaglia anche sulle questioni della legalità noi dobbiamo dire allo stesso Ministro Orlando che ha quell'approccio che un quartiere di Roma non svolge la funzione di trincea rispetto alla Camorra e alla Sacra Coronulina perché se noi qui abbiamo il Comando dei Carabinieri, la Finanza, i ROS, la Corte d'Appello, la Prefettura quindi due profetti che fanno il Comitato Provinciale per l'Ordine alla Sicurezza Pubblica questo ha garantito che sostanzialmente alcuni fenomeni quantomeno siamo riusciti a contenerli per chi si è letto qualche inchiesta della magistratura di 15 anni fa i crotonesi già erano arrivati in Molise, quelli di Petilia Policastro, il paese di Lea Garofra 15 anni fa, per chi si è letto qualche carta, così nel tempo perso e sono stati questi presidi di legalità che hanno svolto non una funzione di difesa del Molise ma hanno consentito una difesa del termine della legalità e della giustizia in maniera un po' più ampia allora questa battaglia che dobbiamo saper fare insieme ci deve portare anche a recuperare un minimo di orgoglio, di compattezza come Molise io ascoltavo oggi un'intervista di un esponente sindacato che diceva se viene il Ministro del Lavoro ci metteremo a protestare e vabbè, quando hai finito di protestare il Ministro se ne va a Roma, lui abita a Imola, non ha problemi bisogna proporre, quando viene il Ministro si dice sull'area di crisi anziché metterci 50 milioni ce ne vogliono 100 perché così riusciamo a metterci più cose nel decreto dell'area di crisi ci dobbiamo mettere i soldi per l'elettrificazione della ferrovia da Campobasso a Roccaravino per arrivare da Campobasso a Roma con due ore e magari il collegamento con Benevento cioè se viene una entità dall'esterno le altre regioni si compattano fanno corpo e si battono insieme per quelli che sono i diritti poi è chiaro che all'interno di quel territorio si discute allora noi abbiamo promosso una cabina di regia come giunta regionale dove abbiamo chiamato le associazioni sindacali, le organizzazioni delle imprese per dire ci sono 360 milioni di euro dei POR per i prossimi sei anni ci sono le risorse dell'area di crisi, ci sono i PON e i fondi dello sviluppo e coeseo quindi ci sono 800 milioni da programmare cosa vogliamo fare? Noi non ci siamo chiusi a riccio noi abbiamo avviato un confronto per tentare di ridisegnare tanto è vero che abbiamo apprezzato alcuni spunti e indicazioni che anche l'introduzione del magnifico rettore per dire noi sulla ricerca, sull'innovazione, su alcune attività possiamo stare qui allora o recuperiamo quest'idea di saper stare insieme programmare e progettare e difendere il nostro territorio ma con questa visione o altrimenti ci mettiamo a litigare tra di noi ma semplicemente per giochi di cortile che poi faranno arretrare tutto il nostro territorio Un'ultima domanda a Petraroia che è solo un po' dal discorso lo stato del Partito Democratico in Morisi attualmente come... A me non me la fai No, no, non gliela faccio a lei perché altrimenti la metterei in difficoltà quindi riesco a farla all'assessore Petraroia Lo stato del Partito Democratico è semplicemente ottimo perché come quello della DC che negli anni 70-80 si divideva per prendere più consensi e quindi l'idea è cercare di combattarsi nei momenti che contano sulle cose importanti che interessano il nostro territorio e la nostra comunità Voglio spezzare una lancia per cercare di anche lanciare un messaggio alle persone sulla qualità anche del lavoro della nostra magistratura Noi stasera abbiamo fatto un ragionamento in termini generali nessuno vuole fare un discorso di carattere corporativo parlo anche delle forze dell'ordine L'altra sera abbiamo visto il film di Marco Tullio Giordano su Lea Garoflo In pochi sanno che una delle cose che hanno consentito poi di arrivare alla contanna finale è perché la magistratura di Campobasso è riuscito a acciuffare uno dei responsabili del tentato sequestro E questo è stato uno degli episodi più brutti della storia italiana contemporanea Come a dire che noi non stiamo difendendo il piccolo perché ci è comodo che sta vicino casa e perché c'è una conoscenza anche dell'usciere anziché del cancelliere ma perché c'è una competenza e una professionalità che è a garanzia di tutti Allora